Musica Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Dicora25 E' qui in compagnia del buon Skites Ciao a tutti E qui siamo al, diciamo, terzo episodio di Terraria Oppure nuovo inizio Perchè in un certo senso abbiamo ritrovato una brutta sorpresa Che si è risettato il mondo, vabbè Abbiamo fatto una cazza così su due piedi Anche su due mani Però ci è venuto anche bene E adesso, boh, principalmente ci concentreremo sul trovare delle monete Abbiamo detto Io prendo il copper che c'è Andrew l'abbiamo chiuso qua al sicuro Quindi adesso io parto all'avventura Magari lagherà un po' ragazzi, ma non so cos'è Ma va un po' male Qua mentre lui si inchiude in un buco Mette qualche torcia Perchè giusto, perchè così Andrew si sente più sicuro Noi intanto andiamo di là Andiamo a vedere se troviamo qualche zoom Un po' qualche slam No, nella grotta no, perchè mi fa paura Siamo al mondo emerso Se tu veda quella io vado, no, meglio di no dell'altra però vabbè Eh, sai come vuoi, già posso farmi dietro Allora, devo fare un assoluto una fornace Perchè non ce l'abbiamo più Perchè non posso fare una fornace Perchè non ho pietra, giusto Allora, Andrew, ti devi vedere un attimo Perchè... Mi sento qua tra della ragnatela Grazie Allora, qua non si vede nulla E vai, ragnatela Aspetta, 17 di ragnatela Non so quanto ce ne servirà per fare il letto Però è già un buon passo Aspetta che mi metto la terra nell'inventario Ho fatto una specie di... Ma tu dove sei, scusami? Io sto prendendo la pietra perchè non abbiamo più la fornace Quindi almeno un po' me ne serve E poi tipo qua... Ah, mi sa che l'ho già preso, vabbè No, non l'ho preso Oppure se non mi ricordo Ah, eccomo C'è una stupidissima slide Sono dovuto entrare in un altro... Ah, non so dove il fer Dopo, nell'altra episode ci sarà Perchè siccome avevo il mio Piccone nella chest, visto che non lo trovavo Sicuramente sta stato là E non lo trovato più Quindi ho dovuto mettere un altro pg Darmi un piccone, metterlo in un chest E poi aprirmi un altro E poi prendo un altro Quindi sicuramente per voi li avrò preso Il ferro portato il pg Basta, nello slime Vedo anche io un'esplorazione Perchè ci serve roba Anzi io vorrei scavare Più che altro Perchè scavare? Porca miseria Sono bloccato qua come un coglione Secondo io devo abbattere quest'albero Non mi fa andare avanti Cosa c'è in quella zona? Io scavo un po' perchè... Io ho trovato la ragnatella Che è importante Ancora lo slime Oh ma ce l'ha con me Copper Vaso Mettiamo una fiaccola Perchè sennò qua Non ci vede niente Due vasi Mi chiedete due vasi Adesso vado su e li prendo Fate salire per favore Grazie Uno Copper coin E una freccia 5 frecce Non male Ma neanche tanto Non è niente Insomma Io farò un po' di strip mining Perché fa sempre bene Fa sempre bene Quale altra acqua? Oddio sono circolato d'acqua Niente scaviamo verso il basso Cosa vuolete che vi dica L'unico modo che ho Ma guarda stai facendo Stiamo magari così se ne va l'acqua Oh la gata Dico che non si capisce Perchè non lo sentiamo Ma comunque va bene It's ok Everything's gonna be alright Io non ci vedo una grandissima Niente Eeeh Good job Scendiamo ancora giù Scendiamo ancora giù Perché non ho cito due Oh vabbè Non lo voglio sapere Scendiamo giù e basta Scendiamo ancora giù Rumori provenienti dal microfono di Dico It's ok Vabbè 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 Non succede niente Niente scusa Ci sono arrivati in un momento 978.000 850 blocchi di P Qua continua a prendere Anfora Quello è silver Quello è silver 93 monete Ma in totale No Ce l'ha trovato Ah no Mi sembrava strano Caduta Copper Lo raccolgo Tanto ormai sono qua Del silver Che ci serve lo stesso No Avevo beccato delle monete Di argento Dentro le casse Dentro le anfore Un'altra anfora Strip mining Alla grande Trovrai dei buchi Tre fiacole Nelle anfore Vabbè Vabbè A me fanno fondi Io sto per non cercare Dungeon Sotto terra Perché mi serve Quello specchio Di cui ti ho parlato Ah si Lo devo avere Lanciamo questo Scendiamo Perché Sto raccogliendo i girasoli Quante anfore Una cesta Cosa c'era dentro? Aspetta che ci guardo No non è ferro È silver 5 pozioni curative inferiore 44 shuriken Eh se me li posa 6 sbarre di ferro Una cerbottana E 10 fiaccole Come la raccolgo poi la chest? Con il piccone? Con il martello? No con il martello Esattamente quello Si raccolta Oh ma quanti anfore ci sono In questa zona? 100.970 Anche un casino di copper Alla terza L'acido del copper Io adesso sto puntando A farmi L'arco in copper Vabbè Perché cosa cambia Da quell'altro? È più forte Fa più danno Dai Fammi arrivare là Se vuole piazzare la terra Sto stronzo di un personaggio Sì Ma perché sotto a casa mia Devono appostare ogni 5 secondi? Ma fanno apposta Due di seme Non so di cosa Vabbè però due di seme Due di seme Ma quante anfore ragazzi? Anforiamo insieme Spero che stavolta Non sentirete Sciurica Monete di rame Pozzone corattive Monete d'argento Freccia di legno Monete d'argento Sono caduto Ma c'è un'altra Eh va Vaffanchi urlo va Vi ho trovato Del Ferro Secondo me Silver Dono un sacco di silver Trovo più silver Che ferro Mi sa che mi farò Una bella armatura in silver Oh ma quanti shuriken c'ho? Ho una spada in silver Tu cerca il ferro Io ho tanto silver Ho tanto argento Altre anfore C'è facciamo Se serve l'argento Dopo controllo Altre anfore Però senza fornace Cosa c'è dentro le anfore? Pozzone curative a go go proprio Una cesta Io non le uso 15 bottiglie d'acqua Eh no vuote 50 frecce 80 shuriken Un aghetto Non so cosa sia Ora ho Ho trovato Monete d'argento Ho trovato copper e oro Io direi di tornare Mettiamo un waypoint come Minecraft Io non ancora Sì sicuramente No scendiamo ancora un po' No è troppo burrone No vabbè dai La domanda è Ma poi come faccio a risalire? Che modalità abbiamo? Quella che perdi tutto No Eh lo so ma Modalità soft core Avrei preso solo i soldi E non voglio perdere Il minerale d'oro Però c'è ancora da esplorare Esplorare Vediamo Ultima cosa e poi risolvo Dai 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 Anch'io salgo perché qua Se no mi perdo Se no muoio Che è diverso Qua c'è qualcosa? No però devo salire qua su Ci sono delle ragnatele Ci facciamo il letto Ma stai scherzando? Io salgo Io non ho capito neanche come funziona Nella rettima Ok Dio mio Oddio Come faccio Il minimo di luce ci vuole This is working Oh qua c'è del copper Non mi ero accorto Non è che l'ho accorto La torcia Perché ho mangiato un fungo Per sbaglio Oh no Ho mangiato la pozione di velocità Dio mio Come sprecare pozioni A random Ok saliamo di nuovo Io sto tornando su Perché se no qua mi perdo Secondo me ho lasciato tanto da quel ferro Per sbaglio Pensando che fosse Normalissima Pietra Non lo so Esatto Normalissima Normalissima Dai Normalissima Ok Dovremmo fare una fornaccia adesso Cioè Pietra ce l'abbiamo Per lo meno Anche perché ci conviene Eh sì Io sono andato Facciamo una fornaccia Porca Perché non posso fare la fornaccia Legate Scusate un attimo Dai però Selezionamento piccone Cosa serve la pietra La fornaccia La fornaccia come si fa Si sente poco Torcia Torcia Tutto Tutto Facciamo subito Subito Una torcia Dove altre anfore Mi dico sempre che torno indietro Poi però trovo troppa roba Dovremmo avere la fornaccia Adesso No perché no Ma perché i miei blocchi sono lato Giù Ora possiamo fare la fornaccia Mamma mia Che è un senso Questa persona qui Non è un'altra Oh Mi senti? Ti volevo dire una cosa Non so se sei lontano dal microfono O qualcosa Ma ti si sente basso Basso? Si troppo basso Di volume Dico Aspetta un attimo Voglio guardare prima Non ho fatto niente Eh non lo so Ti si sente basso? Così? Eh adesso un po' di più almeno Aspetta che alzo Il volume Adesso? Eh meglio Ma porca Non lo voglio alzare troppo Perché non ha process Ok bravo Perché non ha process Allora ho un iron ore Questa Wood Wood Tu hai del ferro Tu hai del ferro Io si Quanto ne hai? Ma porca miseria Aspetta che se riesco a venire su Magari te lo dico Aspetta Te lo dico subito 20 monete d'argento Al ferro hai chiesto 6 barre di ferro Si 6 barre di ferro Ancora Ok siamo a posto Siamo a posto We are a posto Scherzo Dai perché non prendi quel ferro Che c'è per ferro No vabbè ma stiamo scherzando Sono due minuti che sono bloccato qua Qua c'è una moneta di rama che forse hai lasciato tu Perché Perché si Andiamo a mio sb Donno lo slime lo gel Lo gel Grazie per me Vediamo se qua c'è qualcuno Si c'è Il capone effettivamente Con un colpo è morto Io Sera preso lui Eh va Ho preso io Allora Le frecce qua non me le raccoglio Vabbè lasciamo Adesso me le raccoglio Ho messo Come si chiamano I minerali che non sono riuscito a fondere Li ho messi nella cesta Vabbè adesso arrivo io Con tante ceste Così vediamo Sto a fare E l'ora ok Lo risparmiamo finchè non ci possiamo fare un piccone ok Ehi Sì ok Stavo cercando di entrare questa maledetta porta Oh una domanda ma da quanto stiamo registrando? Eh siamo a 15 minuti o qualcosa quindi Adesso metto un po' via la roba e possiamo togliere Comunque Oggi facciamo Una specie di C'ho 41 monete d'argento Adesso nella cesta ce ne sono 70 No non c'è 70 cosa monete d'argento? Sì Good job Adesso dovrebbe Ecco adesso ti vuoi molto più fluido Adesso dovrebbe arrivare il tipo Aspetta Lo vediamo in un'azione episodio Comunque vende così inutili Se lo dico direttamente Ah Aspetta che faccio un'altra moneta Prima di fare l'incudine aspettiamo Ok Vado sul tetto E guidiamo da lì Eccoci qua Ok Per questo episodio che Diciamo il ricomincio Che ne so L'inizio di nuovo Da zero È andata meglio dell'inizio dell'altra volta Abbiamo già 70 monete d'argento Giorno a caso Ma ok Giorno a caso Abbastanza bene anche perché Abbiamo preso Molte più cose Cioè Presa Abbiamo anche un sacco di materiale Sì infatti io c'ho C'ho 38 tiragnatele Non so se basteranno per due letti Però intanto le ho C'erano anche I tiragnatele Ah ok Comunque mi sembra che abbiamo Vabbè allora per questo Diciamo terzo episodio di Terraria è tutto Alla prossima ragazzi Da Ciao ciao T5 E Skites